Dopo oltre sette mesi, un campionato sospeso e la prima stagionale subito rinviata, torna finalmente in campo il Real Forte Querceta. Debutto a bagni di Lucca per i bianconerazzurri in casacca nera. Ed è già derby lucchese, anche se a contrapporsi sono due volti diametralmente opposti della provincia. Mediavalle contro Versilia. È Ghiviborgo Real Forte Querceta. Parte forte la formazione ospite e Pegollo non impiega più di dieci minuti a sbloccarsi con la nuova maglia. Crosti maffini dalla sinistra, l'ex Seravezze Camaiore stacca di testa ed è subito a vantaggio real. Il Ghiviborgo è ferito, così ne approfittano ancora i versilesi. Lancio lungo del giovane del Dotto a cercare di Paola. E la corsa del bomber Ponzacchino viene interrotta soltanto dall'intervento di Santeramo, irregolare per l'arbitro Rispoli. Si va dal dischetto, dove si presenta Guidi. Stesso stadio, stessa porta di otto mesi fa, quando fallì il pareggio nel recupero. Ma stavolta il numero sei non sbaglia e al diciassettesimo raddoppia per i suoi. I padroni di casa però non demordono e al ventiseiesimo accorciano le distanze con il piazzato di Brunozzi, al posto giusto nel momento giusto sull'assist di Muscas. Sull'onda dell'entusiasmo gli uomini di Lavezzini si gettano subito alla ricerca del pareggio, prima con Felleka dalla distanza, dopodiché con il terzino Piccardi, che però strozza troppo il mancino. Allora nel finale è Capitan Bartolini a prendersi la scena con personalità. Tu nella d'amico si libera di doveri, poi serve Belluomini sulla destra, ma sale in cattedra adornato. La ripresa si apre con il tentativo di doveri, che riceve da Lazzarini, si accentra, ma lambisce soltanto il primo palo. Due minuti più tardi Brunozzi risponde con un'azione fotocopia, anche se la distanza è maggiore, e allora anche lui deve accontentarsi del fondo. Alla mezz'ora innesimo lancio dalle retrovie, con guidi che innesca di Paola. L'ex di turno ha tra i piedi la palla del KO, ma a tu per tu compagnini si lascia ipnotizzare. A un passo dal baratro il Ghiviborgori suscita, e al minuto 77 Muskas premia l'inserimento del pimpante Piccardi, che lascia partire un cross deviato con la mano da Bertoni scivolata. Si torna dal dischetto, il solito, ma stavolta sono i locali a festeggiare. Fellecas piazza adornato e agguanta il pari. A pochi istanti dal novantesimo Pegollo si divora, doppietta e match point. Il destro è defilato e Pagnini è bravo e fortunato nell'opporsi. Scaduti 4 di recupero, termina 2-2 Ghiviborgore, Real Forte Querceta.